...in notturna mentre Solberg non ne vuole sapere di uscire dal tranciato, invocato comunque dal pubblico, va a salutare a ricevere l'applauso del pubblico, non so come riesca a guidare in queste condizioni, solo lui è capace... Sì, anche senza mani, probabilmente avrà le gambe lunghe perché riesce a stare mezzo fuori dall'automobile. Michi Piazion, quanto è cambiato questo mondo, prima parlavamo della Formula 1, ma il tuo mondo, i tuoi tempi e il rally di oggi, guarda qui, è bellissimo. È proprio incredibile, sta facendo delle cose un po'... Ha rischiato di farsi male, adesso deve correre dentro la macchina. Attenzione, eccolo qua, ha fatto un piccolo danno. Beh, ma è simpatia totale questa. Vabbè. Stavo dicendo, rispetto ai tuoi tempi è cambiato qualcosa. Ma devo dire, cioè, i rally sono cambiati perché sono diventati, sono gare molto più corte e sono anche... vediamo qui, vedi, qui scivola pure. Qui è scivolato. E l'aveva detto che il circuito era scivoloso. Sì, esatto. Una bella scena da film. Sì, sì, sì. Sì, sei paurito, faccio più danni. Qui la macchina fa più danni adesso che quando fosse uscito di pista. Devo dire che i piloti sono sempre uguali, nel senso che, insieme ai tempi, il pilota emerge, emerge, il pilota che vince... Sì, 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 sì.